Eccoci qui, rigorosamente da soli, a televisione è stata chiamata per documentare questo campo di immondizia. Poi laggiù da piedi ce n'è proprio a go go. Naturalmente, questa è una proprietà privata, chi è da queste parti la riconosce, non è che il Comune possa venire qui a pulire dentro le proprietà dei cittadini, però gli potrebbe fare un corpo di telefono, potrebbe fargli una letterina, dice guarda che la proprietà tua sta diventando un immondezaglio, ecco, cercate però vedere perché insomma è una questione di decoro generale. Ecco qua, guarda lassù all'ingresso che c'è sta, io lo segnalo poi, naturalmente visto che il cesso di scipio ancora sta là, lo faccio per sport, mica per niente.